Si avvia così la legislatura. Abbiamo proposto questo schema a tutte le forze parlamentari perché quelle più consimili a noi possono partecipare alla funzione di governo, perché le altre non impediscano la partenza della legislatura. Non impediscano la partenza della legislatura. A cosa ci siamo trovati di fronte? Ci siamo trovati di fronte a un disimpegno conclamato di 5 Stelle che ha avuto 8 milioni di elettori e a quanto pare intende metterli in frigorifero. Questa è la realtà. Non si preserva così una legislatura perché senza governo, una legislatura non può andare avanti. Un Parlamento non può andare avanti. E non c'è insulto e non c'è acrobazia che cancelli questa elementare e drammatica verità. Abbiamo registrato un disimpegno.